Proprio oggi c'è stato comunicato dall'Ast che c'è un caso di dengue anche nella città di Pesaro e abbiamo condiviso con loro una serie di interventi. L'intervento lo faremo già da questa notte, quindi della notte tra il venerdì e sabato, dove faremo una disinfestazione per un raggio di circa 300 metri rispetto al punto dove abita la persona che è stata colpita. È una cosa positiva, comunque la persona al momento sta bene e voglio anche ricordare ai cittadini che dalla prossima settimana la zona che è stata prevista per la pulizia delle caritorie sarà proprio la zona di Viale Napoli, di via Cesare Battisti, cioè della zona del mare, in maniera tale da poter riuscire a garantire anche una maggiore sicurezza, maggiore pulizia anche per quanto riguarda il tema delle lazare.